8.000 di ante! Ante! CUR! Oh mio Dio! Ciao a tutti ragazzi sono Luke e ben ritrovati nella TechKid con Chip e Pepo Ciao ragazzi! Come state da tanto tempo ragazzi? Mamma mia dalla TechKid! Qui ci sono 79 gradi all'ombra per cui siamo presi un attimo di pausa Ora stiamo ricominciando con la PressKid Mi serve della nananana Devo fare una pala Abbiamo preparato tutto ciò ragazzi per quello che dovremmo fare oggi Però è successo un plico qua Vi faccio vedere Diciamo che è scomparso un pezzo di casa Nell'ultimo episodio se vi ricordate Eravamo troppo presi a rubare la corrente a MK e Keredan Hanno fatto anche il loro simbolo di qua A MK e Keredan E talmente ero preso a fottere la corrente che mi sono dimenticato di spegnere i macchinari Mi sono esplosi Fantastico Un pollice in su solo per i macchinari esplositi Guardate Non c'è nulla Va bene lo sistemeremo in un altro episodio Ragazzi intanto grazie a tutti per l'attesa Scusate anzi per l'attesa Ma devo dirvi un paio di cose Un paio di cose Molti di voi stanno continuando a rompere le scatole Nei commenti che loro hanno fatto tutto Che loro hanno finito la serie E noi siamo ancora qua Non ci interessa Non esiste una nessuna gara Ci stiamo divirtitepirebendo Sì Mazzò Allora Oggi andremo a fare Andremo a fare un impianto Un meccanismo per farmare diamanti All'antica Se vi ricordate la mia vecchissima serie della Techit Vi ricorderete la famosa impianto della lava acqua Che fanno blocchi I blocchi fanno diamanti Allora qua abbiamo preparato il tutto Ci servono dei piccone Picon Eccoli qua Li mettiamo qua Bam Eccoli Guardate infatti Però se non lo metto dentro Bam Siamo a 4 Bam Bam Siamo a 5 Bam Siamo a 6 Eh sono finito Eh aspetta aspetta Eh aspetta faccio del ferro C'è una cosa piena qua Eccola qua Scusi Scusi sbagliate Sento 12, 19, 20, 34 Quanti cose 34? Nooo 4 Giojip Ma che stai dicendo? Nooo T'ho portato del ferro Eh fai 4 picconi Ho uno 4 Ho un 4 di ferro io Toh A posto Fanno i 4 A posto Mamma fatti Ma sei mancavallo con i porcellini Sì Ne ho fatti 89 22 Vabbè Dai pure tu Luke Mamma minchia 10 vanno bene Basta Quanti ne fatti? Che è finito? Eh Koblet No Ho visto finire qualcosa Forse la Koblet Bam 17 Eh vabbè Che cazzo ci facciamo? Devono essere 20 20 vero cazzo Ah 23 20 1 2 Eh manca del legno Eh legno Aspetta che ti faccio i bastoncini Ce l'ho io Ce l'ho io Dobbiamo fare i bastoncini Fatti Fatti Dai 1 2 2 Vai Sì ma ho metto mio Ho metti tu 2 E 3 Perfetto un piccolo l'ho preso 1 2 E 3 Perfetto Bam 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 21 Avanza 1 Ora ci servono i tubi Vediamo se c'è qualcosa nel mio zainetto speciale Oh Sto per aprire il zainetto Vai Vai Atta aperta Bene abbiamo solamente 10 tubi di redstone Perfetto Aspetta aspetta che non ho altri 58 Cosa facciamo la redstone Visto La redstone Aspetta Qua ce ne è 25 Ti interessa Dammi 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 Dove ho? Qua in un'altra craftevole del piccone Ok ok facciamo così Un'attimino Facciamo così Così Eccoli qua Anzi facciamo 24 Va perché Una redstone mi serve per prendere redstone Ah Così la redstone per prendere la redstone Bam 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 Ok Mi ho preso un po' Bam 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 Tutto a posto Fatto Bene possiamo andare Possiamo andare Dovremmo avere il tutto ciò Allora Allora andiamo dietro la nostra bella casuccia Abbiamo già preparato l'ambaradam Eccolo qui Però dobbiamo Così come adesso Spostarlo di un blocco più in basso Dopo ve lo spieghiamo Esatto Così semplicemente Guarda Oh perfetto La porta Io faccio questo Ho trovato uranio Vai Cala Cala Non sbagliate le misure No no Oh lui c'è C'è del pistacchio a terra Luca Non ci interessa Il pistacchio E' buono Allora scendiamo di un'altra ancora Per essere più sicuri Poi ci vanno i tubi sopra Ah va bene Eh si ma sui tubi Ci possiamo Va bene Sì 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 Va bene Ok che si ho capito La porta Lost the door man Please don't Don't step me now Tananana Guarda Calare Qua va quella Qua si forma giusto Eh si Più o meno L'altezza 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 Qua va il brickier E qua va il tubo Per cui ancora uno più in basso Ancora E se vogliamo fare la cosa di vetro Per forza Lo faccio Ecco qua adesso posso scavare Tac Il piccone ce l'ho eh Sei contento Da morire Sì o c'è Dai lavoriamo Lavoriamo Dai dai Ma usci Dai usci Perfetto Ok Intanto ragazzi Ci hanno potenziato la corrente Come ben fatto Perfetto Ora vi faccio vedere Ci hanno potenziato la corrente Guardate Là Sotto la scritta NK C'è un impianto di corrente potenziato Cioè quello lì semplice Dei braids Sì Bene Ora detto fatto questo Dobbiamo semplicemente raccogliere Ben 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 Dieci secchi di lava Vabbè Sì è uno d'acqua E' 20 d'acqua E' 20 d'acqua Io c'ho uno solo L'acqua qua l'abbiamo Io c'ho uno solo Dai vieni chip Cominci a metterla Due Guardi 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 Quattro Cinque Qui c'è l'acqua Qua sotto Sette Otto Nove E uno Nove Dieci Infatti sarà giù Arrivando a sto Arrivando a sto Venga 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 Sto arrivando Venga venga Allora E io non ho i secchi Io ho i tuoi Occhio la lava Ragazzi Occhio la la Ma aspetta Mettila dopo No prima l'acqua L'acqua Sì però l'uscita La facciamo qua Vabbè Io sto avanti Eh no Luca Perché poi la lancia All'advento Ok perfetto È stato male È da morire So contento Ma non hai i secchi Io chip Me lo presti No Aspetta ma non posso fare l'acqua infinita Un attimo L'uomo qua Eh due ore che ti dico Fai l'acqua infinita Dai faccio l'acqua infinita Due minuti Guarda Non c'è bisogno Ma non puoi farlo lì Pirla di metterla anche di qua L'acqua Sì ho capito Ma faccio un attimo L'acqua infinita qua Un attimo Secondo È piazzata a destra A destra Appunto È quello che ho fatto Guarda A destra Tranquillo Tranquillo Bravo 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 Vai Veloce Piazza Piazza Oh Oh Funziona 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 Vabbè L'acqua L'acqua Stavore Funziona Funziona Ok L'ultimo Fatto Ok Ora Vi togliete dalle spalle Però dall'altra parte Non l'ho fatto Perché c'è cobblestone qua Perché si è formata Ma l'acqua dall'altra parte Non l'hai fatto Ma mi è chiuso l'acqua Mi è chiuso l'acqua Aspetta Fermo Non me lo mette Ok Vai Cominci alla sinistra Aspetta Prima concludo qua Vabbè Oggi ne ho otto anni e mezzo Vado un quarto Che manca intanto Allora Qua Qua Dai CioCip Corra CioCip Perché intanto Non vai a prendere il vetro E chiudiamo Vado io Vado io Hai tanto vetro? Eh? Tanto? Sì La voglia 18 stacca Come 18 stacca? Ma la osca? Eh sì Erano tutti nella Erano tutti nella Guarda forti Ci alimentare pieno di stacca di vetro Cioè io vivo di vetro Ah già comincio a chiudere Eh sì Così bisogna camminarci sopra Se no Sta arrivando la notte Voilà 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 Beh magari non chiudiamo Così magari lavoriamo Ma stai taci Ma piga per te Perché così lavori meglio Ma devo scendere a lavorare Non devo andare sopra Ah non lavori? No oggi non lavoro Ah ok Oggi in ferio Va bene Ok andiamo Allora Eh? Innanzitutto Che innanzitutto Che ce ne va a mettere Qualche Qualche lucio Ok C'è la lava Luca Vabbè intanto Allora appunto Perché c'è la lava Io devo mettere i secchi E scappare Sì Per cui togliere le palle Qua si può chiudere tutto Qua si può chiudere tutto Ok chiudiamo Mamma mia Luca Mamma mia Corri Corri Luca Arriva Ma in realtà Non si propaga la lava Luca 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 Arriva L'è addosso Vai corri Corri Eccolo lì No sto pensando che Non ce l'ha bisogno Di mettere i 10 secchi Vabbè Infatti ho fatto una cazzata Boom Effettivamente Vabbè sì E' per no Più che altro E' per non veder la mossa Luca Eh infatti Vabbè No la vedi mossa Sincentra fa anche abbastanza cagare Eh che devo fare Fa niente Eh sì aspetta Eh no Vabbè lì Lì semplicemente Basta che spacchi Ah No no Madonna Sono caduto Non entrate I bloccati Ah diciamo Ah stai facendo i disegnini Tu ok Ok A posto Sì Vai aspetta Metti la cobblestone Vai Bella Eh aspetta Si muovono 4 posibili Ok a posto Vai Dovrebbe Certo si muove la lava Eh un secchio avanzato Eh A posto Niente Niente A posto Allora abbiamo La 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 Ora dobbiamo mettere I 20 bloc brischi Ok Il problema è che Col cacciavite Si girano Dovrebbe Fai vedere se si girano Col cacciavite Se no siamo nella Cosiddetta Applico qua Si si girano Si Nice Perfetto Perfetto Allora li metto così Ah I zombie Quanti non messi Li secchi Si proprio Guarda lì Lui Proprio lì Guarda Perfetto E mo come esci Mo esco tranquillo Come esco Da ma siete coglioni Però eh Creeper di qua Eh ma mica non guardate Ma perché esplosola Chi c'era Che 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 È il creeper Che mi diceva Luke Esci di qua Eh visto Non c'è da ridere Comunque Perché si fa scoppiare Un creeper Ma stai andiamo a dormire C'è da lontano 1929 Che non mi scoppia Un creeper a me Attenta Attenta Andiamo a dormire Che siete pericolosi Non sono pericolosi Creeper Siete pericolosi Voi Andiamo Ma perché i creeper Sono assassini Si si Andiamo dai Dai Minchia I zombie Tutto c'ha Ho mostrato Le pisce Mochileggia Stiamo registrando Da 13 minuti Adesso la finiamo Dai finiamo lì Che poi Chiudiamo l'episodio Dai 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 Benissimo Cioè possiamo avere Fatto un episodio Senza nemmeno Completare l'impianto Beh visto che siamo bravi Mamma mia Allora Ma devo scendere Lu se mi dai i tubi Comincio a piazzarli Sopra Casomai Eh sono già qua I piazzo io Aspetta Ok Dovrei farcela Allora Si si Ok Allora bravo Bravo Luca Adesso Non posso metterne tanti Perché devo anche girarli E devi mettere pure i tubi 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Devi mettere pure i tubi Lu 1 2 3 Ok Mamma mia Mamma mia I lavori Mamma mia Però si che palle Ma Uno metti i tubi Ma se mi dai il cacciavita Magari uno te li giro Te li giro Dai Ma ormai ho fatto Cosa ho fatto Dai dammi il cacciavita Dammi il cacciavita E tu mi piazi Spera che ho preso il ritmo Togliti Togliti che ti incastri 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Poi Devi mettere i tubi Aspetta ormai Manca un ultimo i due 1 2 3 5 Grande 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 Abbiamo aiutato Bravo chip Batti 5 Bravo Tac Facciamo così A posto Allora Ora Ora Abbiamo finisciuto l'impiantolo Si Perfetto Fatto Dovremmo aver finisciuto l'impianto Però Non è finisciuto del tutto Poi qua sotto faremo la stanzina Ok Ok Ora per il momento Per il momento Mettiamo una cesta Chi ha una cesta Portata di schiaro Io Pam pam Mettila qua C'è Pepp Tu dovresti avere il timer Eccolo qua Te lo buttò Lo metti qui Ok Non poti metterlo Vai dammi Ok Te lo buttato Dove Lo mettiamo qua Bam Perché non va? Perché Perché il pulsante L'hai messo Diciamo dal lato Dove Ok Ogni due secondi Va bene Lo mettiamo ogni secondo Bello Veloce Veloce Bam Bello Fantastico ragazzi Non va troppo veloce Fantastico Ma tu non dovresti avere Quei cosi che abbiamo Craftato nell'episodio scorso Quelli di cobblestone Ma infatti Che sto combinando Mi serve la reddystone Te la vado a prendere subito Dovrei averla nelle cose No non ce l'hai Ce l'ho io Porca miseria Però non ce l'hai I tubi quelli là Le vado a fare subito No basta che mi prendi la reddystone Normal Ok Te la prendo subito Dai però Le hai fatto già Ok Sta arrivando Io non so che fare Ma non ti vedo Sto ritornando su Ma non ti vedo Se te stai giù 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 Ma non ti vedo Ora ti vedo Eccolo là Ora funziona Bellissimo impianto E abbiamo Cobblestone Infinita Da uno stacco Ora Prima di chiudere l'episodio No Facciamo il prossimo episodio Ci serve urgentemente Una geggia Che si chiama gemma Scrivete nei commenti Se avete capito Quale tipo di gemma Per chi mi segue Da molto tempo Saprà la vecchia Techit Che gemma usavo Ciao Ciao ragazzi